gentili telespettatori buona giornata già luigi paragone leader di italexit che non entrerà in parlamento perché ha ottenuto meno del 3 per cento dice la politica ha perso non muove un passo senza i tecnici dice paragone in un lungo articolo scritto su il tempo punto x no x punto it non punto x beh quello che dice è giusto in parte perché non è il fatto che la politica ha perso non è che ha perso la politica o meglio dice non muove un passo senza i tecnici bene nella prima repubblica i politici erano anche dei tecnici i politici erano degli esperti delle persone preparate che se andavano ad assumere un ministero erano anche dei tecnici di quel settore poi è arrivato il populismo populismo con il movimento 5 stelle la lega e lo stesso italexit e tanti altri partiti populisti non parlo di sovranisti ma parlo di populisti insomma quella quella politica da bar quella che possiamo definire la politica da bar quel tanto al tanto quel tanto al chilo c'è stato l'avvento dei politici per caso dove i 5 stelle hanno portato pullman di politici per caso in parlamento gente che non sapeva sapeva nulla che arrivava da esperienze di lavoro presso che nulle o per esempio chi aveva arrivava come parlamentare che per 20 anni aveva lavorato in un negozio di scarpe l'altro per 15 anni aveva fatto fotocopie in un'azienda l'altro era disoccupato insomma hanno portato la gente comune in parlamento ovviamente la gente comune in parlamento l'abbiamo visto poi quello che succede portare l'inesperienza in parlamento come mettere ad esempio toninelli al ministero l'azzolina dj fofo la 30 di maio cioè mettere l'uomo qualunque a gestire un ministero a chiamarlo onorevole ministro di qui ministro di là pensando che questo era la soluzione per fermare la casta no dici con questo tu tu sistemi la politica cacci la casta e sostituisci con politici per caso che sicuramente saranno onesti sicuramente saranno sapranno fare poi abbiamo visto che sicuramente non è così così l'arrivo dei dei populisti poi si sono formati tanti partiti la politica ha perso le persone competenti e ogni volta che i populisti hanno governato poi sono arrivati i governi tecnici a cercare di sistemare i disastri arriva il governo tecnico dove si mettono degli esponenti della società nei vari ministeri persone competenti che non sono politici ecco ma perché paragone la politica ha perso non muove un passo senza i tecnici perché una volta politici e tecnici erano la stessa cosa oggi ci sono i politici per caso e i tecnici e allora dopo i disastri che fanno i politici per caso arrivano sempre i tecnici tecnici vuol dire gli esperti di settore ecco è così paragone dice beh adesso la politica ha perso non muove un passo senza i tecnici la meloni arriva al governo e dice agli alleati che vogliono proporre gli yes men la ronzulli italiani cioè piazzare i fedelissimi nei ministeri come dire questo mio fedelissimo dopo anni che mi gira intorno le restituisco tutta questa amabilità con con un ministero no ecco e il fatto poi è questo la meloni dice io voglio un governo di persone capaci e dove non ci sono persone capaci si mettono i tecnici è proprio questo quello che dice la meloni mettiamo dei politici capaci cioè tra virgolette dei politici tecnici nei ministeri ma cosa succede che i partiti ad esempio lega e forza italia vogliono mettere i fedelissimi che non hanno nulla di tecnico solo a ricoprire incarichi senza sapere quello che è quello che tratta quel tipo di ministero quindi non so metti all'agricoltura un laureato in infermieria metti al alla sanità un laureato in scienze politiche poi metti all'economia uno che ha malapena fatto una laurea ma non niente di più ecco alla fine la meloni cerca dei politici tecnici e dice dove c'è il politico tecnico mettiamo il politico tecnico dove non c'è mettiamo un puro tecnico se non c'è nessuno all'altezza questa è la realtà caro paragone non muove un passo senza i tecnici perché i tecnici ci sono sempre stati caro paragone prima erano dei politici oggi politici per caso che non sono tecnici perché per vent'anni hanno fatto le fotocopie alcuni politici in un'azienda e poi vengono chiamati onorevoli e allora vuoi mandare quel politico per caso a fare anche il ministro ovviamente poi si opta per un tecnico esterno questa è la realtà quindi il discorso di paragone può anche andare bene ed è una fotografia della realtà poi lui fa tutto un lungo articolo parlando di sigonella craxi ci ha fatto tutto un giro di parole lunghissimo ma oggi ha ragione non si muove un passo senza i tecnici ma guardi che paragone che anche prima era così solo che prima i tecnici erano i politici oggi non ci sono più politici tecnici sono solo degli yes men e allora quando c'è poi da fare un lavoro serio devi andare a guardare fuori dalla politica proprio per non fare l'errore di mettere i toninelli nei ministeri toninelli che poi tra virgolette lui crede di essere stato il miglior ministro che abbia mai avuto l'italia lui ne è convinto l'ho scritto anche nel suo libro di essere stato il miglior ministro dell'italia quindi a parte l'essere poi dei politici per caso essere dei ministri per caso poi c'è anche la presunzione di sentirsi i migliori ministri che l'italia abbia mai avuto quindi non solo la mancanza di conoscenze ma poi c'è anche la la supponenza di dire io sono stato il miglior ministro arrivederci a tutti e grazie